Tutti insieme c'è da fuori. E brinelli. Dr. Carlos Del Rio joins me. Il governo ha ordinate le persone di restare a casa. Persone non ne vedo, videochiamate molte. Ancora non ci credo, c'è il presidente con te. Ma quanto ancora dobbiamo stare? Rinchiusi in casa, senza scoprire, oh no. Alta dichiarazione, senza andare in prigione. Restiamo a casa perché non ho la mascherina. E neanche la murchina non restiamo a casa perché La pandemia è totale, sul balcone a cantare. Siete tutti in arredo. Attento a non uscire. C'è un virus che ti uccide. Mi ci voleva un po' di relax. Adesso un po' di chili, ma questa ansia che mi sale. Cerco cose da fare. Ora mi pesto male. Porto fuori il cane. Ce la faremo. Ce la faremo. Ce la faremo. Uniti ce la faremo. Restiamo a casa perché non ho la mascherina e neanche la murchina. No, restiamo a casa perché la pandemia è totale, sul balcone a cantare. Restiamo a casa perché non ho la mascherina e neanche la murchina. Non restiamo a casa perché la pandemia è totale, sul balcone a cantare. Che sta di conto se usci... L'altro vez. Grazie.